I design sono amici nostri che abbiamo invitato per decorare i pasticcini perché alla fine lo che vogliamo come me è promuovere la creatività. Ho scelto di disegnare dell'erba per rappresentare un pochino la crescita del bambino e forse un futuro più verde per tutti. Grazie a tutti. Nei progetti ascolto sempre l'idea dei bambini perché sono dei clienti che mi danno molte soddisfazioni che sono liberi dei condizionamenti estetici dei canoni standard che gli suggerisce a tutti. l'etat Allora, questa grafica ho pensato per soprattutto chi sta su questo passeggino, quindi i bambini. I bambini così vedono il suo passeggino come suo amico o amica. Un'interpretazione diversa. Hanno lavorato in tre laboratori separatamente. Ognuno di loro ha dato un'interpretazione diversa di MIMA. Comincerei con Antonio Pio Giovanditto. Per me MIMA è luce. Ho immaginato un universo di forme semplici ma non banali. La scelta del non colore è perché io vengo dal mondo mediterraneo. Per me il colore è luce. Quindi l'argento rappresenta la luce. E i bambini rappresentano il futuro. Quindi la luce è un po' una speranza per il futuro. Questo modello ha fatto un messaggio. Forza Giappone, è un barenico. E come nel colore, volevo mettere una faccia di prodotto che poi chi sale sopra sono bambini. Quindi volevo creare una cosa simpatica per i bambini. Una celebrazione della crescita. Il bambino cresce, l'erba cresce e si spera tutti in un futuro più positivo. Questa è un po' la simbologia della luce. Io con questo ho voluto far vedere che qualsiasi persona può decorare il pasaglino. Questo è semplicemente lasciare la testa vuota e dipingere come vuoi. Questa è un'esplosione di creatività che tutti noi possiamo fare. Questa è un'esplosione. Questa è un'esplosione.